Si chiama Kaisa Enrica, è una bellissima modella formosa, una bellissima modella curvy, così viene definita e pensate che ha più di 200.000 follower su Instagram e pensate che sarebbe stata però respinta da un locale infatti la donna sarebbe stata, ripeto, messa alla porta e i gestori le avrebbero detto hai troppe amiche grasse la dignità di questa giovane donna sarebbe stata letteralmente violata in piena regola una bella ragazza come lei che va ad essere respinta semplicemente perché ha delle amiche in più formose oppure perché lei stessa è formosa io lo trovo letteralmente assurdo ma ovviamente questa è una mia opinione fatto sta che comunque il web, quindi internet ha letteralmente tirato fuori gli artigli ha letteralmente fatto sapere che non ci sta a vedere che una donna come questa venga respinta da un locale e quindi il web sarebbe insorto i commenti infatti sarebbero piovuti a più non posso per andare a combattere lo stigma sociale nei confronti di chi è formosa o curvy, credersi voglia un saluto, grazie, al prossimo video